Con 7.199 voti, Manuela Rontini è la candidata consigliere più votata in provincia di Ravenna. Distanziato di quasi 1.000 voti, l'assessore uscente Andrea Corsini, 6.280 preferenze. Terzo, Gianni Bessi, 4.120 preferenze sempre per il Partito Democratico. Al quarto e al quinto posto, i due esponenti principali della Lega, Andrea Livrani e Samantha Gardina. Un risultato molto importante per la consigliera Fentini e per il territorio di Fenza. Sono infatti tanti gli scenari che adesso si aprono all'orizzonte e con questi numeri non è detto che per Manuela Rontini ci sia solo un posto da consigliera regionale. Una grandissima soddisfazione per il risultato di Stefano Bonaccini, di tutta la coalizione e il buon governo di questa regione ha premiato. Parliamo invece del suo risultato, è stata la più votata in provincia di Ravenna. Sì, sono molto contenta. Penso che l'impegno di questi anni, il mio spendermi lungo e largo a servizio dei comuni di questa provincia, di queste comunità, del nostro territorio, alla fine abbia premiato. Del resto, in queste settimane di campagne elettorali, vedevo che la gente mi riconosceva, insomma, mi veniva incontro e ho sentito in questa campagna elettorale tutto l'affetto, l'amicizia, la vicinanza di tantissime persone che mi hanno dato una mano per arrivare a questo risultato. Quindi è un risultato personale, ma è come sempre un risultato di squadra, di un gruppo di persone che ha fatto un altro passo avanti. Parlando dei temi di cui si è occupata in questi ultimi cinque anni, da dove ripartire adesso? Penso che sia necessario ripartire da una delle proposte che avevo lanciato in campagna elettorale, cioè l'Agenzia regionale per le strade. Noi lo vediamo, anche le strade dei nostri comuni, le strade provinciali, spesso necessitano di manutenzione, quindi pensiamo che si possa istituire una società pubblica dotata di mezzi e di personale per fare costante manutenzione e per restituire ai cittadini strade più sicure in cui viaggiare. Non nascondiamocelo, questo esito del voto avrà ripercussioni anche sulla campagna elettorale di Faenza. Come si parte a questo punto? A Faenza la coalizione di Stefano Bonaccini porta a casa un 55%, quindi dobbiamo ripartire da lì. Bisogna individuare un candidato capace di tenerla insieme, questa coalizione, di mettere in campo una proposta per Faenza, perché questa città dopo i dieci anni di buon governo del sindaco Malpezzi deve tornare protagonista sull'asse della Via Emilia, ha tutte le caratteristiche per farlo, per ritrovare piena centralità anche nella discussione regionale e quindi io penso che ci siano le condizioni dopo aver vinto le regionali anche per fare bene alle elezioni amministrative.